È stata una sensazione bellissima anche perché vengo da un periodo dove le cose non giravano, quindi è stata una soddisfazione veramente bellissima che finalmente il lavoro ha ripagato. Allora io avevo bisogno di cambiare aria, di provare continuità, di trovare nuovi stimoli, appena ho avuto l'occasione di venire qua da Rezzo non ho esitato un attimo ad accettare. Dal punto che mi ha penalizzato a Montevarchi è stato il fatto di arrivare un po' in ritardo. Quando i miei compagni erano già avanti fisicamente io lì ho sofferto un po'. Prima di esordire col Montevarchi sono passate dieci giornate e poi non rientravo negli schemi di gioco dell'allenatore. A Cagliari è stata la mia crescita personale, l'ho avuta proprio nell'ultimo anno di primavera dove ero nel trampolino di lancio, sono riuscito a esordire in Serie A, mi ha insegnato tanto, avevo allenatori come Daniele Conti e Agostini che mi hanno dato veramente tanto. Poi purtroppo tra gli anni dopo ho avuto qualche problemino, tra infortuni e l'altro non ho avuto la continuità che dovevo avere. Io nasco come un attaccante esterno, poi in primavera, l'ultimo anno, dove mi sono consacrato, facevo la seconda punta e il ruolo dove mi trovo meglio. Ma nei ruoli davanti mi li ho sempre occupati tutti, da trequartista, seconda punta e esterno. Diciamo che non importa bene il ruolo preciso, cioè se il mister mi dice di giocare in un ruolo mi ha dato tranquillamente.